Ascoltatemi, ascoltatemi un attimo. Non sono mai riuscito a parlare, a capire quello che provo veramente. Mentre voi non l'avete sempre fatto sentire importante, utile per qualcuno e poi che cazzo non l'avete fatto? Non sono riuscito manco a fare una delle cose più stupide, come mettermo in un'altra vita. Non sono riuscito a fare una cosa importante. Speriamo. Speriamo, è una cosa importante, no? Speriamo. Stai a lasciare il segno, eh? Stai a lasciare il segno. Stai a lasciare il segno. Stai a lasciare il segno. Stai a lasciare il segno.